Buongiorno, io rappresento l'arca di Noè. Nella terra gli uomini erano diventati cattivi, quindi iniziarono a combattere tra di loro. Il Signore vide nella terra che c'era guerra e caos, e quindi il Dio disse, cancellerò l'uomo dalla terra. Il Signore disse a Noè, Noè, manderò il diluvio universale sulla terra, distruggerò l'uomo e la terra. Tu dovrai creare un'arca. Il Signore disse a Noè, Noè, io con te stabilisco la mia alleanza. Sull'arca dovrai portare te e la tua famiglia, e due di ogni specie. Noè, con tutta la sua famiglia, fece salire tutti le due specie sull'arca. C'era pioggia per 40 giorni e 40 notti. Dopo 150 giorni, l'arca si fermò sul monte Ararat. Il Signore disse, Noè, con la sua famiglia e con gli altri, uscì dall'arca. Il Signore disse, Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Devello Non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio,